eccomi qui non mi sono dimenticato di voi eh ah boh allora gonna plisset bellissima 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 con il blu il beige o meglio grigio chiaro grigio perla sml metaprezzo continuo con il 50% dell'exting perché mi serve spazio ne sto recuperando ma me ne serve ancora quindi continuo la promozione del 50% dell'exting 54,90 meno il 50% 27,45 bellissima bellissima io ho fatto sto abbinamento qua perché mi piace poi vedete voi se uscendo una sneaker vedete voi blu bianca un stivale fate quello che volete giubbettino jeans ultimo 49,90 faccio metaprezzo e questa deliziosa camicia in popoli in bicocone ultima maniche lunga da portare anche con pantaloni short quello che volete di vita alta anche se avete un abitino ad erendino e sopra ci mettete questa ci sta quindi vi faccio qualche idea poi vi faccio vedere quello che volete ultima è una media 35,90 metaprezzo quindi 17 euro insomma pochissime vi aspetto vi aspetto perché poi ci sono tante le cose belle stanno arrivando venite venite non fatevi paurire da sto tempo che poi tutto cambia arriverà il caldo le belle giornate dai venite 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 ciao ciao